Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo vlog. Adesso sto andando a fare la spesa e non farò involtare spesa perché compro sempre altre cose. Ma siamo in Venendini e oggi il corso faccio il ponte di due. Quindi sono a casa anche se poi ho potuto fare alle due la terapia. Ma comunque sono in riposo per adesso e poi nella prossima settimana sarà una settimana trombare. Perché ho le gare di nuoto. Quindi preparate un video riguardo le gare di nuoto. Quindi niente, facciamo dopo. Fa una spesa e adesso vado a casa. Ah, stavo ammetticando oggi pomeriggio un evento per le gare di nuoto. Tanto lo vedete dal titolo di questo vlog. E poi c'è anche sui video dello sport che cos'è. Perciò l'Olympic, a modo mio. Ovviamente. Perché non me ne conto tutta la storia. Quindi, niente. Ci vediamo dopo. Sto tornando a fare la terapia. Poi comincio c'è la fracolata per il Perce Olimpico. Potrei cambiare tutto il vlog. Invece la fracola olimpica. La giornata di pioggia. Pioggiosa. Ci vediamo dopo. Un momento fiancolato è finito. Adesso. Adesso vado a casa. A riposarmi. Sono stanco. Morto. Sono stanco morto. Non ho più la voce. Appena l'ho mangiato. Cosate. Adesso sono a letto. Mamma mia che tanchezza. E ci vediamo. Vediamo. Questo vlog termina qui. E non si sarà nessuna foto. Perché non potrei farlo nessuna foto. Quindi ci vediamo. In un prossimo video. Se questo video vi è piaciuto. Mettete like. Incrivetevi al canale. Prima di solitarvi. Se vostra vita è grigia. Soledete. Perché avete una vita sola. Ciao. Alla prossima. Alla prossima.